Il 27% delle imprese raggiunte da interdittive antimafia si trova in Calabria. Il dato emerge dall'ultimo report dell'autorità nazionale anticorruzione elaborato sulla base delle informazioni contenute nel casellario informatico delle imprese dal quale emerge la progressiva crescita del numero di queste misure dal 2014 al 2018. Se infatti nel 2014 le interdittive per le imprese calabresi erano state 28, nel 2018 il numero è arrivato a 176, passando per le 45 del 2015, le 134 del 2016 e le 166 del 2017. In totale, nel periodo preso in esame, le aziende raggiunte dai provvedimenti restrittivi emessi dalle prefetture sono state 549. Il trend non riguarda solo la Calabria. In tutta Italia le aziende che sono state interdette per contiguità con la criminalità organizzate sono 2044. Non solo, dal 2014 al 2018 si è registrata una crescita costante e generalizzata in ogni zona del paese e si è passati dalle 122 interdittive del 2014 alle 573 del 2018, con un incremento pari al 370%. Nel complesso, le aziende del nord interdette sono quasi quadruplicate, passando da 31 a 116, quelle del centro sono raddoppiate, da 16 a 34, e quelle del sud sono aumentate di oltre 5 volte. Cinque anni fa erano 75 quelle sospettate di vicinanza all'Andrangheta, mentre alla fine del 2018 ne sono state contate ben 423. Come affermato dal presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, In occasione della relazione annuale al Parlamento, numeri di tali dimensioni sono sintomatici di quanto le organizzazioni criminali abbiano infiltrato l'economia legale. In percentuale, il sud, col 44,9%, è di gran lunga l'area in cui il numero di imprese interdette abbonda. Seguono le isole con il 26,4%, il nord-ovest con il 12,3%, il nord-est col 10% e il centro col 6,4%. Non potevano che trovarsi in Calabria anche le province col più alto numero di aziende interdette. Ai primi due posti troviamo infatti Reggio Calabria, con ben 222 imprese stromeste dai rapporti con la pubblica amministrazione, e Vibo Valencia, con 139 aziende. Dal terzo al quinto posto seguono Caserta, Messina e Trapani, ma le altre province calabresi sono anch'esse gravemente interessate dal fenomeno, se consideriamo che in questa classifica al rovescio Catanzaro è al settimo posto, con 82 imprese interdette, Cosenza al nono con 57 e Crotone al dodicesimo con 49.